Benvenuti a Carte Scoperte, stasera giochiamo con tre amici e colleghi dell'informazione regionale, con noi sono Mimmo Policastrese, benvenuto Mimmo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. Giuliano Carella della provincia KPR, ciao Giuliano e grazie anche a te. Buonasera Salvatore, buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. E bentornato a Vito Barresi che non seguivo da tà, non vedevo più che seguire perché segue e leggo molto le sue riflessioni, i suoi editoriali su CM24. Ciao Vito, bentornato ad Esperia. È un piacere sentirti, è un piacere ritornare alla tua casa televisiva che è molto importante e so che è apprezzatissima da tutti i calapresi. Troppo buono, troppo buono. Allora stasera parliamo, dunque noi non sappiamo ancora per la verità quando sarà emesso questo decreto del Ministro Lamorgese che dovrebbe, come dire, intanto decretare la data delle amministrative. Immagino insomma che, a Dio piacendo, è al netto della potenziale nuova curva pandemica, si dovrebbe votare tra il 20 e il 21 settembre, quindi aspettiamo ovviamente questo decreto che indichi esattamente la data. Ma certo, sul capo si stanno un po' tutti preparando, si voterà molto probabilmente in comuni importanti, anche qui in Calabria, Reggio Calabria, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, giusto per citare quelli più importanti, ma per quel che riguarda noi in maniera particolare si rinnoverà anche il Consiglio Comunale e si sceglierà evidentemente anche il nuovo sindaco di Crotone. Io ho preparato una scheda, se siete d'accordo seguiamo questa riflessione e poi entriamo nel merito e nella discussione nel dialogo. Questa è la nostra scheda. Vincenzo Voce, Andrea Correggio, Antonio Manica, Gaetano Grillo e poi ancora Roberto Dorato, Luca Mancuso, Leo Pedace, Giovanni Capocasale. Insomma, a Crotone scegliere da chi farsi governare non sarà facile, semplicemente perché aspirano la poltrona di sindaco in tanti, diversi tra esperienza matura e maturata e professione lavorativa importante. Professionisti, ex sindaci, burocrati, esponenti politici. Manca naturalmente il candidato che sulla carta potrebbe arrivare al ballottaggio con buonissime chance, cioè il campione del Partito Democratico che sarà appoggiato da Enzo Sculco. Perché tra le novità di queste ore c'è proprio quella che a sinistra ormai l'accordo tra Zingarettiani e Sculchiani è solo questione di ore. Il candidato a sindaco sarà una scelta del PD ma i democratici, con la K, dovranno dare il benestare e se si vince hanno già individuato l'uomo forte in giunta con la delega di vicesindaco. L'anticasta come alle regionali si divide. A gennaio Aiello e Tanzi, a settembre quantomeno a Crotone correggia e voce. Le due parlamentari pentastellate, Barbuto e Corrado, ci avevano provato, ma si sa il campo anti e anti con tutti. Basti riflettere sui colpi bassi tra i due consiglieri uscenti dei Cinque Stelle. La novità è che il centrodestra, in men che non si dica, ha trovato la quadra. L'avvocato tributarista Antonio Manica è stato benedetto da Lega, Fratelli Italia e Forza Italia. Da capire che faranno i movimenti liberali della prima ora e soprattutto le opedagio. A gennaio ha votato Mimmo Tallini, ma nel centrodestra non lo vogliono per via di quel posto in giunta con gli sculchiani. È durato poco, ma l'onta per Cerrelli, De Simone e Torromino non si lava facilmente. Come sempre sarà una campagna molto televisiva e poco porta a porta. A Crotone a settembre si va al mare, non ai comizi. Mimmo Policastrese, tu hai scritto fra l'altro anche nell'ultimo numero del crotonese a quello che è successo in casa centrodestra. Per quanto a parlare di centrodestra, se ci limitiamo alle liste ufficiali, ai tre partiti principali, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, non del dubbio che hanno trovato anche fra l'altro, credo in poche ore, la quadra intorno all'avvocato tributarista Manica. E però, come giustamente hai scritto tu, ci sono tanti altri movimenti, partiti, il civismo liberale, democratico, diciamo di centrodestra. Alcuni sembrerebbero essere vicini a questa scelta, altri invece potrebbero anche mettere in discussione la tenuta complessiva e la solidità del centrodestra uscito vincitore anche a Crotone a gennaio scorso. Il nome dell'avvocato Antonio Manica ha ricompattato solo in parte il centrodestra, nel senso che ha rimesso insieme i partiti principali, li chiamo gli azionisti principali della coalizione, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Però ha spaccato poi anche il resto dei cosiddetti cespunghi, le liste di mori, i movimenti che in qualche modo fanno riferimento a questa coalizione. Anzitutto l'Eopedace che fra tutti i cespunghi grandi e piccoli è il più significativo se non altro dal punto di vista elettorale, quello che esprime o quantomeno alle passate competizioni ha espresso la forza elettorale maggiore. Dicasi lo stesso per Crotone e la vita di Giovanni Capocasale. Quindi bisognerà vedere un po' queste due formazioni, questi due raggruppamenti, da che parte andranno. Quindi ribadisco, l'unità del centrodestra al momento si è verificata soltanto tra le forze maggiori. Quindi nelle altre formazioni bisognerà ancora attendere che posizione prenderanno queste due e anche qualche altra lista minore. Che c'era in campo anche l'ex assessore Fiorino che al momento non si sa bene se abbia accettato o meno la soluzione manica, così come altri che invece hanno detto che per loro la soluzione manica va benissimo. Per carità il nome io credo che sia stata un'ottima scelta. Non è una persona organica alle liturgie dei partiti, non ha mai svolto attività politica, però è una persona assolutamente preparata e competente che potrà fare la differenza nel confronto con gli altri candidati che dovessero poi essere schiarati via via. Al momento il grande assente è ancora appunto il candidato del centrosinistra, ammesso che la coalizione tra il PD e i movimenti di scunco vada in porto. Sembrerebbe di sì, anche da quanto abbiamo visto proprio ieri sera, è all'ultima assemblea cittadina del PD di sabato scorso, dove ormai questa coalizione viene data quasi, questa alleanza viene quasi data per scontarla. Però finché non ci sarà la parola definitiva è ancora un po' tutto da vedere. Poi ci sono gli outsider, c'è una sorta di terzo polo, diciamo così, che è quello che si sta combattendo intorno a Gaetano Grillo, anche quella è un'ottima figura, bisognerà vedere se prenderà forma questo terzo schieramento, questo terzo polo potrebbe essere un po' quello che rompe gli schemi, un po' il biopolio, insomma, tra quelli che ormai sono... Sì, chiamati così solo convenzionalmente. Certo, assolutamente, giusto per capirci perché effettivamente sotto questo cielo c'è un po' di confusione. Giuliano Carilla, c'è qualcuno che dice che in realtà questi mal di pancia pedaciani, questi mal di pancia capo casaliani, facciatemi passare queste terminologie, insomma, giusto per restare un po', stanno in un certo qual senso aiutando questa sorta di centro-sinistra che poi sarebbe la sintesi dei democratici con la K e dei democratici con la C, in buona sostanza, insomma. È come se stessero tutti aiutando un po' a far rivincere questo centro-sinistra redivivo, allargato, non so come definirlo sinceramente. Sì, intanto spero che mi sentiate da casa, perché se mi date dicendo che va bene l'audio... Molta sì, stavolta sì, vai tranquillo. Ok, no, allora dicevo, più che altro, a mio avviso invece, la crisi, le beghe interne ai partiti tradizionali, le coalizioni tradizionali centro-restra e centro-sinistra, stanno generando invece, a mio avviso, un valore aggiunto per il cosiddetto civismo, perché se è vero che il centro-restra si è subito coagulato attorno al nome dell'avvocato Manica, tiene attorno a sé i tre partiti di coalizione, cioè Lega, forse Italia e Fratelli d'Italia, con l'aggiunta di due, un po' di movimenti politici, poi la lista Scopelliti, insomma, il movimento d'Italia del meridio, per l'interno deciso, perché sono comunque portatori di voto. ma sicuramente le sei list, sei cinque, sei list che andranno a formare la coalizione, che in questo caso è capriciata da pedace, potrebbe avere al suo interno dei portatori di voti, come si dice, quegli portatori d'acqua che potrebbero garantire, insomma, a quell'area moderata, perché di area moderata si tratta, di avere un maggior vantaggio addirittura sul centro-destra. Stesso identico ragionamento troviamo nel centro-sinistra, perché se è vero che l'accordo sembra cosa fatta, io ricordo che all'assemblea di sabato mancare la cosiddetta componente dell'assemblea cittadina che è quella che si è autosuspesa, cui fa capo, cui ha dato il proprio senso, anche il commissario provinciale Iacucci, presentandosi all'assemblea cittadina. Ora, fatto dell'ultima ora, sembra che in caso di una situazione del genere, perché nel momento in cui ci sarà questo accordo con l'area moderata di scurco, molto probabilmente quell'area che si è autosuspesa, che fa capo all'ex sindaco Varlò, per intenderci, potrebbe scegliere di scendere al fianco di libri per tutori, che è questa coalizione che sta raccogliendo a sé tutto il mondo dell'associazionismo, del terzo settore, dei movimenti, e quindi potrebbe esserci canonosamente una separazione in casa tra le due anni. Ebbene, allora in questo caso chi tiene il simbolo? Beh, a quanto pare, secondo lo statuto, potrebbe essere il commissario provinciale per segnare il simbolo. Ora mi domando, c'è il commissario regionale del Partito Democratico che avalla questa ipotesi di alleanza con l'area moderata simbocentrista dei movimenti di pubblico, e c'è un'area che invece dice no, andiamo in discontinuità col passato, cerchiamo delle forze sane, che sono pure del terzo settore, la partita, come già ho detto, il collega... Tu la vedi aperta anche nel centro simbocentrista, si sta giocando sui tappi... Il problema, sarai d'accordo anche tu Giuliano, che il problema è che i tempi sono ormai ristretti, perché insomma qualcuno potrebbe anche immaginarsi, che ne so, una sorta di manifestazione di primarie da cui magari trovare anche un minimo di sintesi, ma ormai i tempi sono così stretti, Vito Barresi, che effettivamente insomma, a giudicare anche dalla scheda con la quale abbiamo cercato di presentare questa nostra chiacchierata più che discussione, insomma sta lì a testimoniare e a dimostrare che l'idea, come dire, primo repubblicano ormai è davvero consegnata alla storia. Giusto per capirci un po', cerchiamo di mettere anche noi delle patacche, delle targhe e parliamo di centrodestra, ma non so fino a che punto, centrosinistra, non so fino a che punto in questa fase, però potenzialmente sia il centrodestra che il centrosinistra, Vito Barresi, potrebbero avere davvero dei contraltari e quindi rispetto alle forme ufficiali magari sopravvanzarli in termini di consenso, come ha appena detto Giuliano Carella, tu come la vedi? Il primo punto è un complimento al collega Massimo Perlozzo che ha fatto una panoramica e un quadro della situazione reale in questo momento, molto precisa bisogna dire e anche le tue introduzioni sono introduzioni valide, però a me pare che aleggia sia nel servizio di apertura sia nelle considerazioni che un po' tutti andremo a fare e stiamo facendo il primo dato fondamentale, siamo di fronte ad una elezione amministrativa nazionale, regionale e amministrativa completamente diversa rispetto al passato perché la vivremo nell'ambito dell'emergenza Covid-19, è vero che siamo nella fase 3, una fase molto insidiosa, una fase molto difficile che fra l'altro si svolge quasi tutta nella stagione estiva, che è la stagione dell'assembramento da un lato e del distanziamento dall'altro, del distanziamento dai grandi momenti della città, dai grandi momenti mass mediali e dell'assembramento invece nei luoghi dove si fa vacanza in buona sostanza. La ripresa sarà contrassegnata dalla riapertura delle scuole e quindi da impegni particolarmente gravosi per tutti gli elettori e i cittadini, il che vuol dire che questo tipo di campagna elettorale si può immaginare come una campagna elettorale a tavolino, nel senso che le forze che si sposteranno saranno un po' spostate strategicamente come su uno scacchiere, tant'è vero che dirò fra un attimo che su questo scacchiere alcuni si stanno muovendo bene, alcuni si muovono di rimessa, altri si muovono in primo piano e fanno le loro deduzioni, lasciano a noi anche le deduzioni necessarie. Quindi il primo dato è, queste sono delle elezioni particolarissime in tutta la storia repubblicana e democratica del Paese, sono le prime elezioni Covid-19, sono le prime elezioni sotto le regole della pandemia e sotto le regole dunque di una sanificazione complessiva del Paese che è di fronte ad una difficilissima ripresa. Il secondo punto è il quadro analitico che si compone di due parti, prima di tutto lo sfondo regionale, cioè queste elezioni vengono praticamente dopo la vittoria della Santelli, ma anche dopo lo sgretolamento di pezzi della maggioranza della Santelli che sono nati dalle inchieste della giustizia e del procuratore generale Gratteri e poi dal fatto che si è sottratto, ha cercato di sottrarsi, l'antagonista nella campagna elettorale della Santelli, cioè il commendatore Callico che è uscito fuori dalla scelta. E lo sfondo regionale ci dice che queste elezioni di Crotone, giustamente tu hai ricordato San Giovanni di Fiore, Castrovillari, Reggio e tanti altri centri molto importanti nella nostra regione, questo sfondo regionale si compone di un altro dato estremamente significativo. Uno, capire quale sarà la tenuta e la forza della giunta regionale di centrodestra, capire quale sarà lo svolgimento del congresso regionale del PD, che è un congresso che vede ancora una volta contrapposti il commissario regionale, la Versano Ingegnere Graziano e dall'altra parte l'ombra del PD, cioè Oliverio che è risultato sconfitto, virgolettando, dentro del suo partito, ma che però ha una forza molto radicata e particolarmente collegata alla situazione di alcune parti come San Giovanni in Fiore, Crotone, Castrovillari e in parte anche a Reggio Calabria. Anche a Reggio Calabria. Fermati Vito, fermati perché hai messo così tanta carne se non rischiamo da qui ai prossimi 40 minuti di bruciare troppi pezzi allettanti. Noi ci muoviamo dentro questi magneti e questi magneti fanno... No, no, parlavi giustamente di uno scacchiere in movimento e torniamo ovviamente su Crotone. Effettivamente, insomma, Mimmo Poli Castrese, la parte valoriale è sempre più ridotta, insomma, i grandi principi, i grandi movimenti ideali, non ci sono più, non sono la precondizione che serve appunto a costruire alleanze, coalizioni, a trovare anche eventualmente formandoli nuove leve della politica. E ovviamente tu sei un attento osservatore anche di quello che succede in questa città. Quando Vito Barresi parla di scacchiere, immagino si riferisca a delle forze, lo dico tra virgolette, che per esempio fino a qualche mese fa avevano anche responsabilità amministrativa all'interno della giunta pugliese, che adesso magari si ritrovano a gennaio a sostenere candidati vincenti del centro-destra, che costruiscono diciamo movimenti politici che hanno difficoltà a sedersi con le formazioni politiche ufficiali del centro-destra. Insomma, per dirla in italiano, Leo Pedace, lo dicevi tu benissimo prima, è persona che rappresenta un movimento che ha molto consenso in questo territorio, ma è lo stesso Leo Pedace che ha fatto l'assessore nella giunta pugliese e che poi però va magari ad avanzare la richiesta per fare il candidato a sindaco del centro-destra di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e di Lega. È evidente che in una situazione di questa natura poi c'è qualcuno che si impunta da una parte e qualcun altro che magari insomma realpolitik può dire ma un momento, forse è la chiave di volta se vogliamo vincere, poi governare è un'altra storia. Cosa ne pensi? Premesso che le categorie di centro-destra, centro-sinistra, come dicevi benissimo tu, ormai sono semplicemente delle categorie che sono ad uso dei giornalisti, nel senso che per comodità adottiamo ancora queste definizioni, queste formule, ma nei fatti non esistono più, le elezioni soprattutto comunali ogni volta lo mettono a nudo questo dato, insomma, anche perché le elezioni comunali, come ben sappiamo tutti, sono caratterizzate da tutt'altri meccanismi che non quelli ideologici o pseudo-ideologici. E allora è ovvio che se queste sono soltanto categorie, quello che ci rimane in mano è semplicemente una questione aritmetica, io l'ho chiamata una questione aritmetica nel senso che si sommano o si sottraggono dall'una o dall'altra parte, dall'uno o dall'altro schieramento, quei gruppi, quelle forze, quelle liste, quei movimenti che si vanno appunto ad aggregare semplicemente per avere poi una sommatoria di voti e di consensi, ma questo accade già da un pezzo. Adesso forse come non mai è caduto qualsiasi velo, cioè è caduto qualsiasi pudore, non si fa più nemmeno finta a dire io sono da questa parte piuttosto che da quell'altra, ho ancora un background di un certo tipo. Come si diceva ai tempi della promozione in Serie A del Crotone, stacazzi matematica, perdonatemi la battubaccia, perché è semplicemente questo. Allora ecco che tu giustamente poi ti ritrovi, le operacce ma non solo, anche lo stesso Capocasale, ma è stato, ha avuto incarichi di primo piano anche nell'aggiunta Vallone, è stato assessore provinciale, voglio dire, così come giustamente ricordavi tu, al tavolo del centrodestra Torrumino ha invitato esponenti politici che oggi si presentano con la lista Santelli, con questo o quell'altro nome, ma erano assessori di Vallone o sono stati assessori e consiglieri comunali anche dell'aggiunta pugliese, l'ultimo classico esempio ce lo abbiamo con l'Udc, l'Udc ha partecipato con l'avvocato Vincenzo Camposano e quanti altri al tavolo delle trattative del centrodestra convocato dall'onorevole Sergio Torrumino, quando poi ha capito che l'Udc come le altre liste forse sarebbe stato contattato soltanto in seconda battuta, allora si è offeso, ed è tornato al centrosinistra, chiamiamolo centrosinistra, tra virgolette, per capirci nel senso che ieri era la Kermess di Crotone in movimento alias le liste schierate da Enzo Sculco. Su questo vorrei sentire anche Giuliano Carella, perché mi hai bruciato l'altra domanda che volevo fare a Giuliano, effettivamente insomma, ovviamente lo dico sempre con garbo, però mi viene un po' da ridere, perché io registro qualche giorno fa, Giuliano, anche una sorta di comunicato con il quale si esprime, si stigmatizza questo atteggiamento del centrodestra ufficiale che tiene fuori l'Udc nella scelta di Manica. Dopodiché però poi in bell'evidenza c'è l'assemblea di Crotone in movimento e lo stesso rappresentante dell'Udc di questo territorio è lì, immagino non soltanto ad ascoltare, ma probabilmente anche a proporre qualche, quantomeno qualche idea politica, ecco diciamo così. Cioè ha ragione Mimmo Policastrese quando dice ormai, caro Audia, ma che centrodestra, centrosinistra, principi, valori, marxismo, leninismo, destra sociale piuttosto che liberal democrazia? Stiamo ragionando ormai di un post-Covid, anzi il Covid probabilmente ci ha dato un minimo di equilibrio, ma insomma al netto del Covid ormai nella politica politicante non c'è più, non c'è tutto questo. Ci sono forze, ci sono pezzi di consenso che si spostano in funzione di che cosa Giuliano? Beh ma è quanto è accaduto alle recenti regionali, la stessa centrodestra è stata più forte facciata di avere imbarcato, imbarcato, in questo caso davvero di tutto. Io penso del fatto che al tavolo del centrodestra siede l'ex vicesindaco Mario Megna, più volte assessore allo sport, il vicesindaco con ben due giunte di quasi sinistra, oserei dire più che di centrosinistra, allora c'è da dire sì, c'è da fare questa considerazione. Mi viene in mente un vecchio, una conferenza stampa con una persona che non c'è più adesso, dell'ex sindaco Pascuale Sanatore, quando io ancora un po' più giovane di adesso, forse in maniera sfruttata, chiesi, di chiesi, ma il tuo professore, ma lei che sta presentando un esponente storico della destra plutonese, non trova imbarazzo adesso ad apparentarsi, perché in quel caso sono apparentemente, con Dorina Bianchi che viene dall'Ubc, poi dal centro, poi posto con il PD, con il centro-destra, con il PDL, e lui mi dice, ma questi sono schemi che riguardano la mia persona, Dorina è una che fa la politica moderna e nella politica moderna tutto ciò non esiste più. Quindi forse già da un po' di anni, da un po' di anni questo steccato non si apre quantomeno nessuna demora nel fare il salto dello steccato. Vito, è la politica moderna, oppure la colpa poi alla fine della difficoltà di rapportarsi anche tra uomini e uomini? Che so, magari la colpa è che Ballone e Sculco è da troppo tempo che non si annusano e non si parla, oppure la colpa è di Nicolai Adamo che ha dato troppo sfogo a Mario Oliverio, mettendo in un angolino l'idea del rinnovamento di sinistra, cioè la colpa probabilmente di qualche vecchio della politica regionale che non ha voluto o saputo fare crescere una nuova classe dirigente, per cui ci troviamo in queste condizioni, per queste cause, per queste motivazioni. Più che una colpa è la lotta e la dialettica della politica e del potere in Calabria che passa attraverso questo scontro oppure questi accordi di uomini che tu hai citato elencando vari nomi. E' uno scontro di potere elevatissimo, basta pensare a uno dei nomi che tu hai citato, a uno dei due nomi che tu hai citato, con scontri molto elevati all'interno dell'assetto dei poteri con la magistratura. Però il punto resta esattamente questo, come questo scontro poi si riflette dentro una situazione locale. E nella situazione locale lo scontro intanto si riflette perché la precedente giunta amministrativa, quella di Pugliese, era fortemente legata all'assetto di potere di uomini che tu hai citato. Basta pensare al rapporto diretto e stretto che quella giunta ha avuto con la regione Calabria di Mario Oliverio, un rapporto intenso, anche se vuoi polemico, ma poi anche operativo, nel senso che sono arrivati a realizzare un accordo quadro per Protone, che in buona sostanza, attenzione bisogna essere molto attenti, in buona sostanza quell'accordo quadro per Protone era un accordo che scomodava l'intero pezzo della Calabria, perché era un accordo che non era pilota di per sé, ma era un accordo estremamente importante, particolarmente sul volano e sulla direttrice dei beni culturali, che metteva in difficoltà da un lato uno una città come Catanzaro, da un lato due una città metropolitana che non vola come Reggio Calabria, da un lato tre una città capoluogo importantissimo come Cosenza, intricata in una serie di lotte di potere e di discussioni sul sindaco e sulla candidatura regionale che ha portato poi all'esito che noi sappiamo. Quindi quell'accordo tra gli Sculco, in particolare tra la dottoressa Sculco, l'onorevole Sculco Flora e poi il leader, come si autodefinisce, come si definisce Enzo Sculco, dei democratici con la Caffa, era un accordo che dovrebbe essere rivisto anche alla luce di quello che poi non è stato, cioè il fatto che su quell'accordo molto importante noi abbiamo detto poco relativamente al fatto che il sindaco non l'ha retto, cioè che il sindaco ha trovato invece difficile riuscire a reggere un complesso di iniziative e di importanti soluzioni che lo stesso asse dominante, cioè l'asse che il gruppo di potere che sta intorno agli onorevoli Sculco, aveva realizzato e portato per Crodone nel rapporto dialettico molto serrato con la presidenza della regione calabria. Dunque questo è un gioco che ha un suo effetto e avrà un suo effetto perché noi vediamo soltanto, magari lo dico io che sono come dire un picconatore in genere, noi in genere siamo portati a vedere soltanto le parti critiche di una proposta, invece io penso che quella proposta avrà un effetto perché il ceto politico che ha fatto forfè in buona sostanza attorno a Sculco nella gestione di quell'importante progetto si ripropone oggi in una maniera allargata con il PD dentro e questa è una cosa che cambia radicalmente molte cose. Perché? Perché il punto fondamentale è questo, il PD usciva si sconfitto nella figura della protagonista di quella campagna elettorale andata male per il PD, ma usciva sconfitto come primo partito con il 30 e più per cento di voti a fronte del 20% dell'area Sculco che fanno il 30 e il 20 insieme a tanti altri piccoli pezzi raggiungevano nella torta elettorale crotonese la quota del 60% e su quel 60% che si fa la misura di una buona alleanza, in questo senso devo spezzare una lancia, io non sono particolarmente dolcissimo nei confronti dell'amico Sculco, ma devo spezzare una lancia e dire fondamentalmente che Sculco lavora sul compattamento di quel 60% dopo che ha visto i suoi limiti e le sue fragilità una volta che li ha tenuti soltanto con la vittoria al secondo turno, al ballottaggio e ci lavora con una certa tenacia fino a che ha trovato anche alcune soluzioni regionali che io ritengo interessanti e che dovremmo vedere perché si calano in questo contesto territoriale. Quando si calano in questo contesto territoriale, giusto per concludere, quel 60% che fa l'area di centro-sinistra e che ci fa dire così, ma Grotone è una città di sinistra o di destra? Grotone è una città storicamente di sinistra che magari anche a sinistra, utilizzando la sinistra esprime la destra. A fronte di quel 60% c'è poi un risicato 15% del vecchio centro-destra che faceva capo all'argentie di Piuma e poi un 17% del Movimento 5 Stelle che ha sottratto a destra i ruoti, non li ha sottratti al 60% del centro-sinistra. Questo cambia radicalmente le cose, cioè il Monte Premi che è a disposizione del centro-sinistra, del PD e di Sculco quasi quasi si è più allargato. Sì, può sembrare un paradosso, ma sono assolutamente d'accordo con te. Mimmo Policastrese, Vito Barresi innesta anche il Movimento 5 Stelle e io aggiungerei anche per recuperare l'ottima riflessione di Massimo Carlozzo la presenza ormai ufficiale in campo di Vincenzo Boce che ha già dimostrato di avere un consenso, quantomeno alle elezioni regionali. Ma quello che vorrei chiederti è, per destrutturare i potentati centro-destra, centro-sinistra, il centro-destra formale che ha vinto a gennaio le elezioni regionali che si vorrebbe innestare anche nella città di Crotone, per rompere quel 60% di tre anni e mezzo fa di cui parlava Vito Barresi, che è anche pezzi di potentato, eccetera, non è che stiamo correndo, diceva Massimo Carlozzo, il rischio che troppi anticasta che non riescono a trovare una sintesi avranno magari ottimi consensi, ma se si va al ballottaggio resteranno terzi, quarti, quinti o sesti. Ma l'ho appena detto benissimo Vito, il centro-sinistra ha un capitale di consensi che sarà difficile scaltire nel momento in cui dovessero riuscire a trovare la quadra e a fare questa benedetta o malevenza a seconda del punto di vista d'alleanza. I 5 Stelle, così come l'outsider voce, che poi proviene dalla stessa area, è un ex 5 Stelle, a questo punto secondo me hanno poche chance di arrivare al ballottaggio, attese le divisioni anche all'interno degli stessi 5 Stelle a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. Poi c'è un dato storico, indefettibile, cioè alle passate amministrative i 5 Stelle, nel momento in cui in tutta Italia il movimento era all'apice e godevano di consensi assoluti, riuscito ad esprimere due consiglieri comunali e non arrivare nemmeno al ballottaggio. In questo momento in cui tra l'altro il Movimento 5 Stelle è in assoluto calo di consensi, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale e regionale, dubito fortemente che possa arrivare ad un ballottaggio. Anche in un'ipotesi di alleanza con Enzo Voce, con l'ingegnere Voce, che tutti danno come persona che gode di una vastissima serie di consensi. Peraltro una parte dei 5 Stelle ha fatto capire che andrà con Enzo Voce, nella fattispecie l'ex consigliere Sor Giovanni, così come le due deputate crotonesi che hanno invocato un'alleanza con l'ingegnere Voce, il quale dal canto suo peraltro ha detto chiaramente che con questa situazione di guerriglia interna che ci sta nel Movimento non ha nessuna intenzione di andare ad un'alleanza. Quindi diciamo che questo fronte dei civici lo vedo assolutamente molto poco quotato a fronte appunto di un capitale di consensi di cui gode attualmente almeno sulla carta il centrosinistra e appunto anche il centrodestra che in questo momento potrebbe capitalizzare tutta una serie di raggruppamenti e movimenti che stanno ancora decidendo cosa fare da grande. A mio avviso chi potrebbe avere qualche chance di andare eventualmente, lo dicevo poco fa, ad un eventuale ballottaggio dove appunto il centrosinistra anche non dovesse avere una scelta felice nel nome del candidato a sindaco potrebbe essere sempre questo, io lo chiamo, terzo polo che è in fase di costituzione da parte dell'ex sindaco Gaetano Grillo. Peraltro vi do un ulteriore dato proprio di queste ultime ore a proposito dell'alleanza o eventuale agognata alleanza nel centrosinistra tra il PD e Scurco si è già cominciato a litigare sulla scelta del nome, nel senso che ieri sera a Italsistemi Enzo Scurco ha detto non facciamo come nel 2016 quando poi abbiamo litigato e ognuno è andato per i fatti loro ma scegliamo insieme il nome di dato al sindaco. Dal PD è arrivata immediatamente la risposta e ha detto no, caro mio, il sindaco, la scelta del nome al sindaco anche nell'evenienza di un'alleanza è una prerogativa del Partito Democratico e così tra l'altra è l'indicazione che ci viene da Roma. Quindi c'è un ulteriore elemento di frammentazione, di divisione di cui tener conto in queste ultimissime ore, quindi la situazione è ancora molto in evoluzione. Molto in evoluzione e questo Giuliano Carella effettivamente se seguiamo appunto questo ragionamento che fa Mimmo Policastrese potrebbe davvero portare ammesso che quella fascia, quell'ala, quella parte del PD che ha nell'ex sindaco Vallone una sorta di leadership politica insieme al terzo settore, anche lì ci sono figure importanti e probabilmente ci sono anche consensi rilevanti perché poi noi giornalisti abbiamo avuto anche modo di toccarlo con mano, concretamente proprio nell'emergenza a Covid. Il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore di sinistra, lasciatemi passare questo termine, ha avuto un ruolo importante, ha dimostrato di essere radicato, di essere operativo, di essere organizzato. Ora io non so cosa pensi, te lo chiedo anzi, potrebbe essere Gaetano Grillo il potenziale candidato a sindaco che metterebbe davvero a repentaglio quel famoso 60% di tre anni e mezzo fa, perché se è vero quello che dice Mimmo Policastrese, una lite che ancora diciamo come dire carsica non si vede per la scelta del sindaco ufficiale tra PD e Democratici con la K e dall'altra parte magari terzo settore o un pezzo rilevante del PD intorno magari a una figura di sindaco con esperienza, con background eccetera, potrebbe mettere un po' in discussione questa tenuta. Tu come la vedi? Intanto devo confermare che l'ex sindaco Gaetano Grillo, martedì scorso, era presente all'assemblea costitutiva del movimento, di questo movimento che raccolta il suo settore e l'associazione dei movimenti, che si chiama Liberi per Cotone, quindi c'è un dato di fatto un ex sindaco Grillo partecipa a questa, chiamiamola convention, l'assemblea, quindi da parte sua c'è una condivisione già per quanto riguarda questa garzaria. Allora, cerchè capire una cosa, se l'appello del sindaco Grillo può essere in questo momento trainante, per un movimento che si presenta come discontinuità. Ora, questo movimento a mio avviso è un po' che si è attraverso le varie attività di volontariato, di Ombus, di associazioni culturali, artistiche e quant'altro, si è ritrovato dietro questa sigla del terzo formulo del terzo settore, del centro servizio a Cotone, e ha cominciato a dialogare, ed è un po' che è fatto di varie anime e che perlopiù ruopano spesso nell'orchio del centro-sinistra. Quel centro-sinistra che è stanco di stare sotto l'insegna del PD, un partito ambivo, un partito liquido, e che quindi potrebbe dare una dimostrazione di muscolo. Io vorrei portare un po' con la mente indietro chi c'è pronta e ricordare quando ci fu la manifestazione a sostegno dell'ex sindaco di Riace qui a Cotone, che si coagularono attorno alle cinque città dove viene aspettata la manifestazione, altri di circa 300 persone, 300-800 persone. Questi numeri il PD, se fa una manifestazione pubblica, non li ottiene. Continua ad avere l'isculco perché quello è un gruppo che vi è già in marcia deciso. Vieni, l'onorevole sculco, ha già annunciato che ha 130 soldati, potenziali candidati, pronti a scendere in guerra, che verranno schierati su quattro fila, che sono quelli dei partiti che andranno a comporre la coalizione. Ed è anche un ottore raffreddimento al PD. Io andrò andando da solo, dice sculco, in dinastia voi fate con me l'accordo e io sono pronto. Però per riacciare a conto diceva anche il collega Barresi, perché questo accadimento dell'ex consiglio regionale nel voler ottenere tutti i costi in alleanza con il partito del contratto? È semplice, è semplice ed è quello che regola anche un po' il modo del calcio. Per andare in Serie A serve anche un grande club, un club che ti consente di poter accedere nella Serie A. La Serie A in questo caso è per l'ex consigliere regionale le porte del Parlamento che con i movimenti civici o regionali che ha creato in questo periodo non garantirebbero a Flora, che in questo momento è consigliere regionale, di poter ottenere una porta d'accesso, una chance verso Roma. Quindi il suo interesse in questo momento è di entrare nella partita del Partito Democratico, ma non per avere un controllo sul vincere la partita amministrativa, ma per il futuro. Al suo interno Vinca o Perda avrà sempre una sua rappresentanza formata da un gruppo di consigliari che inizierà fedele e quindi potrà portare e farsi sentire anche in consiglio comunale. Credo che l'obiettivo del Consiglio di Scurco sia, l'ex consigliere regionale sia questo. Sia Vito che Mimmo Polica stress su questa considerazione che fa Giuliano Carella. Il punto è che io costruisco strategicamente un'alleanza col PD perché mi serve il natante che spinga la persona più autorevole del mio gruppo, cioè Flora verso le prossime politiche che non saranno nemmeno tanto distanti a giudicare da quello che leggiamo ultimamente sui siti giornali più autorevoli nazionali. Cioè è il natante che serve per fare spiccare il volo a Flora Scurco e allora da questo punto di vista i democratici con la K, che sono comunque un movimento fortemente territorializzato, non ambiscono poi tutto sommato a dare sostanza, lustro, lucidità e ragionamento all'attività amministrativa. Non gli interessa la città di tattico, mi interessa strategicamente avere la patente per poter volare a Roma. Prima Vito e poi Mimmo. Assolutamente no, io smentirei questa ricostruzione, smonterei questa ricostruzione, perché io penso che Scurco sia l'espressione più classica del cosiddetto campanilismo popolare, democristiano, pediesino, ma più schiettamente popolare. Forse scherziano è il caso di dire, Vito. No, avremmo potuto citare una corda che a te piace, che è quella di De Cardona, di Nicoletti, insomma queste figure particolarmente importanti nella storia del popolarismo che si sono radicati nella storia calabrese, sacerdoti che si sono radicati nella storia calabrese, tenendo sempre come sturzo il riferimento al campanile locale dentro un contesto generale. Questo mi pare sia al netto di tutte le discussioni, il gossip, le contraddizioni, i contrasti che su certe figure si fanno, mi sembra sia il quoziente che caratterizza la biografia di Scurco in buona sostanza. Però che cosa fa il passaggio adesso particolarmente delicato? Uno, il congresso regionale del PD che avviene non prima ma dopo queste elezioni. E il congresso regionale del PD che avviene dopo queste elezioni dovrà tenere conto dei risultati elettorali. Se si perde a Reggio Galato, se si perde a San Giovanni Michione, se si perde a Castrovilla e si vince a Crotone, le cose per gli Scurco cambiano molto radicalmente. Radicalmente, certo. In particolare per l'onorevole Flora Scurco cambiano perché questa ragazza, questa giovane che ha fatto la sua prima parte di gavetta, dovrà adesso dare prova di impegni più gravosi dentro il PD. I impegni più gravosi dentro il PD sono quelli che si aprono fra il congresso e fra la defiance del commendatore Callipo. Sul piano uno, chi dovrà gestire il gruppo regionale del PD nel proseguo della legislatura, se ci sarà proseguo della legislatura? E quindi questo è un primo punto che mette in una condizione completamente diversa Scurco, che ritorna in una specie di stagione giovanile, un po' al-missasiana si potrebbe dire, ritorna al centro dei giochi regionali perché la sua eventuale vittoria e il suo eventuale esito positivo a Crotone lo rendono di nuovo leader regionale. Questo è un passaggio che c'è, però attenzione, perché volevo proprio, questo era il punto di discussione, se ci metto solo un attimo, di possibilità a coloro che ci ascoltano e che ci seguono vedendoci, attenzione che l'interesse per Crotone sale ancora di più, scusami se dico questo perché è in ballo questo, sale ancora di più nella misura in cui con il recovery fund la regione avrà molto, ma molto, ma molto, ma molto meno peso nel rilancio del paese e avranno più peso le città metropolitane, le province e i comuni capoluogo. E attenzione che questo significa per sculco aprire una finestra dentro cui appassionatamente lui si è trovato anche con qualche difficoltà che non sto qui a citare, che è quella di ridare slancio ad una provincia praticamente distrutta, sotterrata, inutile che con il recovery fund potrebbe essere una dei punti di riferimento per la ripresa della asfittica e difficilissima economia in cui si trova l'ultima provincia d'Italia. E quindi l'interesse locale è un interesse che forse diventa molto forte strategico e impegnerà ancora di più il centro sicurezza. Il patto, io l'ho scritto per primo, ma non è che voglio avere la primogenitura, il patto fra Graziano e Spulco sta tutto in questi elementi, in questi fattori, sì che poi uno dice giornalisticamente, politicamente, nel contrasto politico che il patto è un patto di potere e si dice per agevolare la comprensione immediata, ma il patto è sulla tavola, cioè su quello che dovrà essere servito in tavola ad una città che ha fame e ha tanto più fame per come abbiamo visto lo Stato è stato disgraziatamente rappresentato in questo semestre del commissario prefettizio. Mimmo Policastrese, dunque Enzo e Flora Sculco misasiani, dice Vito Barresi, quindi sturziani, cioè il territorio prima di tutto, dentro questo territorio io posso immaginare di costruire una prospettiva politica che mi può anche eventualmente far decollare verso lì di più importanti. Dopodiché però aggiungo, vorrei che tu facessi questa riflessione da una parte, ma anche l'altra che sosteneva Vito Barresi, Recovery Fund, quindi enormi risorse che potrebbero essere messe a disposizione quasi bypassando la Regione Calabria, ma attenzione, punto di domanda, lo chiedo a Mimmo Policastrese e poi facciamo un giro anche con Vito e con Giuliano, ma noi abbiamo avuto anche oltre 40 milioni di antica croton che sono ancora lì, fermi da tempo in memoria, io ricordo la prima pietra posata addirittura da Scopelliti, Presidente, nell'antica croton, cioè a noi manca anche quella strumentazione, i boiardi di Stato una volta si sarebbe detto, cioè quella burocrazia, quell'organizzazione interna all'amministrazione municipale pitagorica senza la quale tu determina atti, trasferimenti di risorse, non fai e quindi nemmeno progetti, voglio dire arriveranno 170 miliardi nei prossimi anni in Italia, tutto quello che vuoi, ma se poi i 42 milioni di antica croton tu non riesci nemmeno a movimentarli, come si può immaginare che finisca la fame della provincia più povera d'Italia, più affamata d'Italia? Allora partiamo dall'inizio, Vito fa inverte i termini, ma arriva alla stessa conclusione poi tutto sommato di Giuliano, nel senso che è vero, è verissimo che Scuco è appunto uno stuziano di ferro, un convinto e il localismo per lui è la base di partenza di tutto sulla sua forza politica ed è qui che ha costruito e vuole continuare a costruire questa forza, però è ovvio che gli serve anche per uscire fuori da questi confini strettamente locali e per fare questo ha bisogno di un ascensore che in questo caso non può che essere un partito di dimensioni nazionali come è il PD. Per quello che mi riguarda io credo che Scuco il PD se lo sia già preso, nel senso che c'è dentro già con un piede e mezzo in sede locale e l'accordo di cui parlava Vito evidentemente anche con i livelli regionali, con il commissario regionale Graziano è un ulteriore passo avanti in questa strategia che lo porterà a tornare a essere quello che lui poi è dall'inizio, cioè se ci ricordiamo bene Enzo Scuco è uno dei fondatori del PD, quando il PDS poi si trasformò in PD c'è fu il travaso con la Margherita e tutt'altro, quindi fu uno dei soci fondatori di un partito che oggi si appresta a riprendersi e questo appunto gli serve assolutamente, ma non solo semplicisticamente come trampolino di lancio per la figliola e quant'altro, ma proprio per delineare tutta una strategia che porti fuori dal secco confine del passo vecchio un movimento che altrimenti non ha tante chance di poter, un respiro che gli consenta poi di giocare su dei tavoli che sono quelli regionali ma anche quelli nazionali. Questo è il punto che Vito delinea invertendo semplicemente il ragionamento che faceva prima Giuliano. Ovvio che questo poi serve soprattutto a gestire una serie di situazioni che anche semplicemente come forza locale tu non riesci a gestire, perché se hai appunto i milioni dell'antica Croton, se hai i soldi della bonifica, se hai i soldi e arriveranno anche questi del recovery fund e quant'altro, un movimento localistico non ha gli strumenti per gestirlo e per interfacciarsi anche evidentemente con una serie di soggetti istituzionali che siedono necessariamente alla regione, che siedono necessariamente a Roma. Questo è il punto. È il motivo per cui anche ci sono tutti questi, ci sono, ci sono stati, ci saranno, finché non si riuscirà anche ad adeguare alla macchina amministrativa del comune che piange in maniera drammatica, non si riuscirà ad adeguarla, allora ecco che tutte queste risorse resteranno sempre sulla carta e quindi c'è ben poco da sbandierarle, come abbiamo visto in questi ultimi anni. Basti pensare che sono fermi finanziamenti anche minimi come quelli minimi nel senso non delle quantità, ma per opere più immediate come possono essere del completamento del teatro comunale piuttosto che del lungomare. Ecco, voglio dire, però ripeto, se non c'è questo respiro politico più ampio la città continuerà a essere comunque messa in un angolino. Allora il ragionamento che politicamente fa un movimento come quello di Scurco non è affatto sbagliato in questa prospettiva. Noi dobbiamo rompere questa inconsistenza in cui siamo stati relegati ormai da troppi anni, da questo non essere calcolati minimamente nelle varie istanze e mi rifaccio ancora una volta a quello che diceva Vito, con il quale concordo perfettamente, l'accordo con la regione, anche con Mario Oliverio nella partispecie, costellato da mille con la precedente amministrazione, tra la precedente amministrazione regionale comunale, è stato seppur costellato da una premessa molto dolorosa, molto polemica, alla fine però ha forzato dei risultati che oggi sono quelli che chiunque vada a gestire l'amministrazione comunale vuole eccezionalmente aspirare a gestire. Questo è il punto. Un'ultima domanda la faccio a tutti e tre, Giuliano, Vito e Mimmo in quest'ordine. Io sono stato molto criticato perché io non vado quasi mai sui social, ma recentemente ho fatto un'affermazione e ho ricevuto non poche critiche. Mi sono permesso di dire, ed è quello che chiedo anche a voi, che probabilmente il limite di questo territorio politicamente parlando è che non c'è un contraltare, non so se vi siete resi conto, ma è da almeno buona metà di questo programma che non stiamo parlando dei candidati a sindaco o delle coalizioni, stiamo parlando essenzialmente di un esponente politico, di un leader politico che si chiama Enzo Skulko. E ripeto, qualche giorno fa, credo una decina di giorni fa, mi permisi di affermare che il limite di Crotone è che ha un solo forte leader, che ha una visione e una strategia, che forse è il vero problema di Crotone e che manca proprio un contraltare, un altro forte leader che si possa effettivamente contrapporre a Enzo Skulko. Ripeto, un po' di critica, io continuo a sostenere che questo è un limite della città di Crotone e del crotonese, vorrei in conclusione chiedere anche a voi che cosa ne pensate. Giuliano Carella. Sì, Salvatore, guarda, mi trovi proprio in perfetta linea. Io era quello che dicevo l'altro giorno, proprio, dalle trasmissioni, insomma, con Melabò. Dicevo, ma è possibile che non c'è nessun'area politica che faccia un appello agli intellettuali del territorio? E quando parlo di intellettuali, non mi riferisco a quegli intellettuali che si asservano al potente di turno per poter giustificare le loro malefatte e poter dare una rinfrescata di bianco a ciò che di Nero c'è nel loro agire politico e amministrativo, perché l'intellettuale può essere asservito, ma l'intellettuale può essere a capo di una società, di una comunità come quella crotonese che da troppo tempo, che per primati, al contrario, primati indici a livello economico e socio-economico è ultima come città e come provincia, spesso nelle gradatorie stirate a livello nazionale. Allora ecco, che ruolo della classe intellettuale deve emergere per guidare? Ecco, però se si commette un errore di assegnare troppa dignità invece e anche elucorare la figura di alcune persone che hanno delle responsabilità grossissime su quello che è la situazione attuale della città, ecco lì si commette un errore madornale. Allora, le cose bisogna chiamarle per il loro nome e bisogna dire quali sono le vere intenzioni che guidano e noi stiamo cercando di farlo, credo, attraverso l'economia del nostro giornale senza usare i paneggirici e dire alla gente questo stanno tentando di fare. così come aveva tentato giorni fa di introdurre, di entrare con un cavallo di Troia all'interno della sede di Via Panella, della federazione provinciale di Crotone con un movimento che si chiama Democratici e Progressisti, cioè l'intento era di dire no, non presentiamo le nostre liste, quelle che sono state responsabili del commissariamento al comune, perché loro governavano, no, cambiamo il nome e uscita la democrazia di resistenza e andiamo con un comodo di Troia all'interno, no, bisogna dire le cose come stanno, ecco, credo che questo sia il primo importante passaggio che riguarda noi dell'informazione al comune, mi sei molto il coraggio di fare corso. Grazie, Vito Barresi. Sì, io colgo questo aspetto che tu hai sottolineato, del monopolio di fatto, di questo ombrello monopolistico che una figura politica, un leader, ma questo è nel gioco delle cose, è anche nel gioco delle cose di una realtà molto polarizzata come Crotone che o è bianca o è nera, ti faccio un esempio chiaro, quando il centrodestra ha vinto con il senatore, ha vinto più giusto con i voti della sinistra che non con quelli della destra, o quando il Movimento 5 Stelle raggiunge il 50-55% alle elezioni nazionali, le elezioni parlamentari, lo fa sempre con questa polarizzazione che poi si sgretola successivamente. La struttura della mediazione, la struttura del governo è nelle mani dei presidi sociali. Chi sono i presidi sociali? I presidi sociali sono il terzo settore. Il terzo settore ha governato con l'amministrazione pugliese? Sì, ha governato con l'amministrazione pugliese. Le organizzazioni sindacali, CGL, CIS, UIL, CIS, all'UGL e compagnia cantante, i patronati, tutte le forme cooperative, la lega cooperativa hanno lavorato in assetto con il modello gestionale ed il modello politico-amministrativo di Enzo Sculco? Sì. Quindi che cosa se ne resume molto rapidamente da questo? Che nell'ambito del presidio sociale Sculco riesce a fare mediazione elettorale anche forte e anche significativa. Dove è debole e dove non c'è l'altra parte che cresce, perché non cresce l'altra parte, è debole nella mancanza di una egemonia culturale della città, di una egemonia politico-culturale della città su cui Sculco trova più difficoltà. Non riesce a fare una sintesi con alcuni centi. E per poterlo fare, onestamente parlando, questo è stato il dibattito degli ultimi 20-25 anni. Sculco per forza doveva sfondare e non è riuscito a sfondare per le resistenze, per le ottusità e per la reazionalietà di certe forze della sinistra dal Partito Comunista fino al PD. Questo è il punto fondamentale. Per Sculco la parentesi scopelliti è stata una parentesi da chiudere immediatamente perché era innaturale per lui. Il salto nella egemonia politico-culturale della città ancora non avviene. Non lo fa la destra, non è riuscito a farlo con Pugliese Sculco. Ora ci ritenta, non possiamo riadurare per il bene di tutti, tenendo anche conto che questa realtà non penalizza gli antagonisti, non penalizza l'alternatura, ma non costruisce l'alternanza. Ma come si può parlare? Ha regalato l'alternanza a due parlamentari, una non so come si chiamano, insomma a due parlamentari e gli ha detto guarda io ti do, a differenza di Sculco che ha una 500, ti do in mano una Ferrari, un SUV, cambia tu Grotto, li avete visti capaci? Di fronte alla 500 anche un po' rotta di Sculco, li avete visti capaci dopo che il popolo gli ha dato questa opportunità di fare una radicale alternanza? Allora bisogna dire la verità con schiettezza, anche se amara, e io lo dico da critico profondo Certo, certo, una bellissima metafora questa. Ho perso il saluto, insomma, che si suol dire di molti ex amici, però voglio dire questa è la realtà, se tu hai Sculco e lo vedi con una 500 e nella 500 fa salire pezzi del PD, sua figlia e altri, e a te il popolo ti dà una Ferrari, un SUV e ti dà il sistema politico nelle tue mani perché ti ho dato il potere sovrano del Parlamento, alla Camera e al Senato e tu non ci riesci, allora vuol dire che i problemi non è che sono di Sculco, sono anche di questi. Grazie, grazie Vito. Mimmo Policastrese, la verità è che tu puoi avere anche la Ferrari, ma se quello che ha la 500 conosce bene la strada, la strada più corta per arrivare al traguardo, è evidente che vince la 500 e non la Ferrari. Ma assolutamente, certo, però il problema è anche che non è che Sculco sia completamente esente la torre, il problema è che anche lui è complice di questa mancata crescita di una classe dirigente, a maggior ragione se lui è stato per 30 anni l'unico politico sulla breccia crotonese che avrebbe dovuto favorire. Ora, se non ci è riuscito, perché appunto non è riuscito a fare sintesi, come diceva Vito, con tutta una serie di cetti politici, di cetti sociali, allora siamo d'accordo, però c'è una mancanza anche di politica e di capacità, oppure una volontarietà a non voler fare crescere una nuova classe dirigente. Ovviamente le parlamentari che si sono ritrovate di punto in bianco la Ferrari in mano, erano due neofite della politica, adesso non è che li voglia difendere, sto semplicemente dicendo che erano incompetenti, nel senso della politica ovviamente mi riferisco, e quindi non hanno potuto fare più di tanto, ma non lo potranno mai fare, perché avrebbero avuto bisogno di fare scuola politica almeno per una decina d'anni, prima di approdare a Montecitorio a Palazzo Madama, ma questa però è una responsabilità di sculco come espressione massima politica del territorio, ma non solo, e ancora una volta la conferma che in mancanza di politica non si va da nessuna parte. Quando il populismo ha preso il sopravvento, o se la vogliamo dire il cosiddetto civismo che è andato di moda per tanti anni, adesso per fortuna sta cominciando a mostrare il suo lato debole, allora se non c'è questo background politico alle spalle non crescerà mai una classe dirigente, ecco adesso quindi l'autocritica che dovrebbe fare è un suo sculco in testa, ma con lui tutta la classe politica che ancora è sopravvissuta o anche quella che si sta affacciando negli ultimi tempi sulla scena è esattamente questo. Io l'unica cosa che l'ho sentita a dire in questa direzione, perdonatemi se continuo a citarlo, ma perché lo conosco da una vita, è l'ex sindaco Gaetano Grillo, nelle sue linee programmatiche che ha abbozzato poche settimane fa la stampa, ha detto a me interessa fare crescere una nuova classe dirigente, una nuova classe politica, dopodiché io me ne vado a casa perché ho la mia bella età e lascio a voi le chiavi della città, questo è un discorso sensato, altrimenti stiamo a perpetrare il potere nelle mani di pochi e non ne usciremo mai, oppure daremo via libera ai populisti che dalla sera alla mattina si invenzano candidature a sindaco o candidature al Parlamento che poi danno i risultati che tutti stiamo vedendo. Vi ringrazio moltissimo, è stato davvero molto bello stare con voi e mi sono davvero molto nutrito fra l'altro. Grazie a Vito Barresi, grazie a Giuliano Carella e grazie a Mimmo Policastresa, presto ospitarvi, spero vi siate trovati bene, volentieri da qui a qualche settimana magari ci rivediamo con le ultimissime, grazie a tutti e tre. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie ovviamente ai nostri spettatori, ne approfitto insomma, utilizzo questo spazio per dirvi che ci stiamo organizzando naturalmente per seguire la campagna elettorale della città di Crotone ma in generale delle città calabrese che andranno al voto a settembre e a Dio piacendo fin da fine agosto vi preannunciamo che avremo nuovamente il nostro match ball, quindi torneremo nell'auditorium Alcmeon e ovviamente offriremo ai principali protagonisti lo spazio per esprimere la loro visione di futuro. Grazie a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Grazie a tutti.